tutti nella chat, benvenuti a tutti come a questa seconda lezione del professor Pasquinucci di questo ciclo sull'integrazione europea come processo di pace, datemi i soliti secondi per poter caricare le slide, ecco qui, perfetto, riuscite a vederle? Qualcuno mi dà un feedback? Perfetto, grazie. Quindi abbiamo prima proiettato sempre la nostra videocanzone, in questo caso era una canzone che i Pink Floyd hanno cantato insieme al cantante ucraino perché comunque per rafforzare il messaggio di pace e poi abbiamo visto invece un filmato che riguarda i centri di Europe Direct. Cosa sono i centri di Europe Direct? Lo ricordiamo, sono dei centri di informazione per tutti i cittadini e noi forniamo informazioni su quelle che sono le attività e le opportunità dell'Unione Europea. Siamo dislocati su tutto il territorio europeo e dove avete visto sono circa 424 centri, ora forse anche qualcuno in più perché ultimamente è stato è stata ingrandita la famiglia e siamo circa 45 centri dislocati in Italia. L'attività che vi stiamo presentando diciamo con questo ciclo è organizzata da un partenariato di centri Europe Direct, in particolare quello di Roma Innovazione che è operativo presso il Forma ZPA, lo Europe Direct dell'Università di Siena e lo Europe Direct della città metropolitana di Torino. Ma oltre diciamo ai centri di Europe Direct fanno parte del partenariato l'Istituto Giobert di Asti che ringraziamo perché è stato in un certo senso l'ispiratrice di questa attività e l'assessorato alle politiche educative e scolastiche dello sport del turismo del municipio tredicesimo reglio di Roma capitale che dopo aver sentito appunto che avevamo in mente di organizzare questa attività ha aderito al partenariato. Ricordiamo che l'iniziativa è patrocinata dalla provincia e dal comune di Asti, dalla consigliera di parità di Asti ma anche dal polo universitario di Asti, Levi Montalcini. Della rete vi abbiamo parlato, oggi siamo alla seconda lezione, parleremo della fine della Guerra Fredda e quindi del nuovo scenario internazionale che si è prospettato alla fine della Guerra Fredda. Abbiamo un ultimo appuntamento online che è il 9 novembre dove si parlerà del fake news sull'Europa e anche sulle origini storiche dell'euroscetticismo e vi ricordiamo che poi concluderemo questo ciclo con due eventi in presenza, uno che si terrà il 30 novembre ad Asti e uno che si terrà il 2 dicembre a Roma. I programmi per i due eventi in presenza sono in fase di preparazione, vi forniremo ulteriori dettagli man mano che andremo avanti. Vi ricordiamo che la videoregistrazione così come anche le slide che saranno proiettate saranno poi risse disponibili sulla pagina dedicata alla seconda lezione. Come iscriversi? Mi dicevano di ricordare le modalità di iscrizione. Dovete accedere ai 20 PA e quindi poi dovete fare l'iscrizione a Formats Out dove vi vengono richieste alcune informazioni e poi solo dopo dovete accedere sulla pagina della lezione e cliccare il tasto rosso dove c'è scritto appunto iscriviti. Per qualsiasi informazione e qualsiasi problema potete inviare una mail a europe direct chiocciolaformats.it. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro docente il professor Pasquinuzzi ma anche tutti i partner dell'iniziativa in particolare lo europe direct di Torino di Siena ma anche chiaramente tutti i partner quindi l'assessorato di Roma e l'istituto Giobert. Lascerei la parola al professor Pasquinucci e ci rivediamo diciamo a fine lezione. Buona lezione a tutti. Bene grazie alla dottoressa Salvi e attraverso lei a tutti coloro che hanno organizzato queste lezioni. Vi sarei grato se qualcuno mi dicesse se le slide sono visibili. Si vedono professore. Benissimo allora iniziamo la lezione che come è stato anticipato oggi riguarda la risposta, la reazione, l'adeguamento della Unione Europea che così da un certo punto in poi si chiamerà, al nuovo scenario internazionale, al nuovo assetto, al tentativo di dare un nuovo ordine mondiale dopo la fine della guerra fredda. Un contesto internazionale che cambia improvvisamente, che non è ancora del tutto sistemato per così dire, come si vede anche da quanto sta accadendo ai giorni nostri e noi analizzeremo appunto come l'Europa Unita ha cercato di rispondere alle nuove sfide del mutato scenario internazionale cercando di mantenere sempre quella sua caratteristica che abbiamo visto essere consustanziale ad essa, ovvero il suo sforzo di rappresentare un progetto di pacificazione del continente europeo. Quindi questa che vedete in questa prima slide è un po' la scaletta che seguirò per illustrarvi queste dinamiche e questo processo. Dico fin da ora che evidentemente in alcuni momenti sarò abbastanza sintetico e generico. I temi di cui vi parlerò sono temi sui quali sono scritti libri, biblioteche e quindi è chiaro che per il tempo che ho a disposizione, spero di finire un po' prima per lasciare spazio alle domande, un po' prima rispetto alla precedente lezione, sarò in alcuni momenti costretto ad essere appunto abbastanza sommario e spero che mi perdonerete per questo. Per iniziare la lezione è opportuno richiamare un momento quelle che sono quello che è il processo storico che ha portato alla Guerra Fredda molto rapidamente e poi appunto vedere come la Guerra Fredda finisce. Questa che vi mostro adesso è una mappa che mi sembra abbastanza interessante perché fa vedere come era sistemata, per così dire, l'Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio del 1945. In blu, in celeste insomma, alla vostra sinistra, vedete i territori liberati dagli alleati, cioè dalle forze militari guidate dai britannici e dagli americani, territori liberati ovviamente dalla occupazione nazista e fascista che si avvia con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939. Alla vostra destra, in rosso-rosa, vedete i territori liberati dalla Armata Rossa con lo stesso intento, quello di liberare l'Unione Sovietica che era stata invasa dalla Germania e dall'Italia fascista a partire dal 1941, liberare l'Europa centorientale dall'occupazione nazista e fascista. I due eserciti, quello degli alleati e l'Armata Rossa, stringono in una morsa l'esercito tedesco, l'esercito, la Wehrmacht, l'esercito nazista, lo premono e liberano via via tutti i territori fino ad arrivare a incontrarsi, non solo metaforicamente, lungo quella linea rossa che vedete dividere appunto l'Europa liberata dall'Armata Rossa e l'Europa liberata dagli alleati occidentali. Nel maggio del 1945 la minaccia e l'orrore nazista e fascista sono sconfitti grazie agli eserciti congiunti dell'Armata Rossa e degli alleati occidentali. Quindi questa è una fase in cui Unione Sovietica da un lato, potenze occidentali dall'altro, sono alleati, strettamente alleati per combattere il nemico comune. Ora questa mappa che corrisponde appunto agli avanzamenti dei due eserciti alleati contro l'esercito tedesco che viene via via fatto arretrare fino a ridursi a difendere la sola Berlino e il bunker in cui è asserragliato Hitler, questa mappa corrisponde, può essere perfettamente sovrapposta alla mappa politica ma anche ideologica e non solo ideologica che caratterizza l'Europa ai tempi della guerra fredda. Perché? Perché come avevo già detto i due alleati, l'Unione Sovietica da un lato e le potenze occidentali dall'altro, tra il 1946-48, diciamo, nell'immediato secondo dopoguerra, da alleati che combattono un nemico comune si trasformano in nemici irriducibili. Perché portatori di ideologie del tutto inconciliabili, contrapposti, una contrapposizione che è politica, che è economica, che è sociale, che è culturale. Potremmo dire con un certo coefficiente di enfasi ma forse neppure troppo che è antropologica. Come vedete da un lato in blu c'è l'Europa occidentale che si riconosce nei valori liberal-democratici, nel parlamentarismo, nell'economia di mercato e nel capitalismo. E a destra invece, in rosa-rosso, c'è il mondo controllato, questa è la parola giusta, dalla Unione Sovietica. Una parte dell'Europa è controllata dall'Unione Sovietica e qui invece si instaurano regimi comunisti che obbediscono a Mosca, connotati da un'economia di tipo socialista. Sono due mondi, ripeto, in contrapposizione estrenua, durissima, inconciliabili, ma l'Europa al tempo è una sorta, come il mondo del resto, è una sorta di scatola cinese. Perché, come già potete vedere da questa immagine, non è solo l'Europa, il continente, ad essere diviso, ma, come mostra questa mappa successiva, all'interno dell'Europa c'è uno Stato, che ovviamente è molto importante, che è sempre stato importante, lo è tutt'oggi, lo era anche allora, ed è la Germania. La Germania che, a causa della Seconda Guerra Mondiale, è essa stessa divisa inizialmente in quattro zone di occupazione, che però possono essere divise in due. La zona controllata dai sovietici, quella rosso, quella dove l'armata rossa è arrivata per, appunto, sconfiggere il nazismo, e i tre territori di colore diverso, quello verde, quello giallo e quello azzurro, controllati rispettivamente dai britannici, dagli americani e dai francesi, le potenze occidentali. Ora, questa divisione rossa, da una parte, la Germania comunista, e gli altri tre settori occidentali, corrisponderà, come vedremo, alla creazione di due Germanie, due stati, la Germania ovest, o Repubblica federale tedesca, quella, appunto, che farà poi parte del cosiddetto mondo libero, il mondo occidentale, e la Repubblica democratica tedesca, o Germania est, che invece sarà uno stato satellite della Unione Sovietica. Ma non solo, e questa è una parte importante, quello che sto per dirvi, perché quello che sto per dirvi ha un fortissimo valore simbolico, per farvi capire cosa fu la guerra fredda, non solo l'Europa era divisa e dentro l'Europa la Germania era divisa, ma appunto in questa metaforica scatola cinese, che è il mondo, l'Europa, anche la vecchia capitale, che adesso è di nuovo la capitale della Germania, ovvero Berlino, era al suo interno divisa in tre settori. Un settore orientale, controllato dall'Unione Sovietica, e tre settori occidentali, controllati ancora una volta come l'intera Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti d'America. Berlino quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, così come la Germania, così come l'Europa, sono divisi. Questa divisione, questa separazione è evidentemente innaturale. È innaturale che l'Europa sia divisa, è innaturale che la Germania sia divisa, è innaturale che la città sia divisa, ma tutto questo ha una sua logica, che può essere considerata perversa, ma che esisteva, ed era la logica, gradualmente diventerà la logica della guerra fritta. Questa slide è una slide che vi ho già mostrato nel corso della prima lezione e riassume, anche qui, e mi scuso in termini generici evidentemente, molto sintetici, il senso di questo confronto bipolare tra due grandi blocchi guidati appunto da Washington e Mosca. La guerra fredda è, diciamo, il contesto, il quadro, la cornice in cui si sviluppano tutte le relazioni internazionali, ma non solo quelle internazionali, la guerra fredda ha un impatto anche all'interno degli Stati, ma noi oggi ci occupiamo della dimensione più internazionali, in particolare di quella europea, ed è caratterizzato, come leggete, da una conflittualità che non ha precedenti. Una conflittualità a tutto campo, a 360 gradi, e l'aspetto fondamentale è che questa conflittualità non può degenerare in un conflitto armato tra i due leader di questi blocchi, Stati Uniti e Unione Sovietica. Non può degenerare, non può, diciamo, avere come esito un conflitto diretto, perché un conflitto diretto avrebbe semplicemente significato la distruzione del pianeta, la distruzione della umanità, perché queste due potenze, a partire dalla fine degli anni 40, sono entrambe potenze nucleari, dotate cioè di un arsenale di armi atomiche, un decimo di questo arsenale, forse anche meno di un decimo, sarebbe stato sufficiente per distruggere l'intero umanità. C'è una famosa frase di Albert Einstein, lo scienziato, che una volta disse, io non so come finirà una terza guerra mondiale, so che la quarta guerra mondiale sarà combattuta con le pietre. Volendo con questo dire che se fosse scoppiata la guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, l'umanità sarebbe tornata all'era, all'età primitiva. Sarebbe stata una distruzione completa di tutto il pianeta. Ora, la guerra fredda è stata naturalmente tante cose. Ora io vi parlo di una questione in particolare che è centrale per il discorso che stiamo svolgendo, perché appunto assume anche un valore simbolico. La guerra fredda significò anche il tentativo da parte di entrambe le superpotenze di stabilire un ordine, un ordine all'interno della propria zona di influenza. L'influenza era diversa. Gli Stati Uniti esercitavano una influenza liberale. L'Unione Sovietica esercitava una potenza, un potere molto più assoluto e repressivo. Si dotano entrambi i blocchi di una alleanza militare. Vi dico questa cosa, mi soffermo sulle alleanze militari che vengono create da queste due superpotenze, dai loro alleati, perché questo è qualcosa che poi tornerà utile in occasione dell'ultima lezione, quella che dedicherò alla guerra in Ucraina. Il blocco occidentale, su iniziativa prima di tutto dei britannici, non degli americani, ma l'iniziativa la presero, la presa il governo di Londra, istituì, e poi naturalmente gli Stati Uniti a consentirlo, crearono nel 1949 la North Atlantic Treaty Organization, la NATO, il trattato del nord atlantico, come alleanza difensiva del blocco occidentale. Era un'alleanza difensiva. Sei anni dopo, per rispondere all'ingresso della Germania Ovest, la Repubblica Federale Tedesca, nella NATO, l'Unione Sovietica, all'interno del suo blocco, promosse la nascita del patto di Varsavia. Anche questa era un'alleanza difensiva, guidata dalla Unione Sovietica, alleanza difensiva che però fu usata in varie circostanze per riportare l'ordine all'interno del blocco comunista, del blocco centro-orientale, dell'Europa centro-orientale, quando questo blocco visse momenti di potenziale messa in discussione e disgregazione da parte di alcuni dei suoi membri. Entrambi questi trattati, entrambe queste alleanze, NATO e patto di Varsavia, avevano al loro interno una clausola di solidarietà, ovvero tutti gli stati membri dei due blocchi si impegnavano a difendere il territorio di uno dei contraenti del patto qualora una potenza terza avesse aggredito questo membro. Faccio un esempio. Se all'interno del patto atlantico la Francia fosse stata invasa, o la Germania occidentale fossero state invase dalla Unione Sovietica o dai loro stati alleati, gli altri membri della NATO si impegnavano a spedire i loro soldati ad aiutare militarmente il paese invaso. Era una clausola di solidarietà e anche questa è molto importante quando parleremo, prego di ricordarla, quando parleremo della guerra in Ucraina. E questo è il mondo alla, diciamo, parte del mondo. Qui mancano alcune zone in particolare, ma anche all'Africa, che ha una storia, e l'America Latina, che hanno una storia un po' diversa rispetto a quella dei paesi che vedete raggruppati qui, ma insomma è una mappa abbastanza esplicativa, indicativa, chiara, credo, di questa divisione. È una divisione, questa è una mappa relativa al periodo di tempo che va dal 1949, quando nasce il patto atlantico al 1982, a pochi anni dalla fine della guerra fredda, e vi fa vedere questi due grandi enormi blocchi, l'uno contro l'altro armato, e questo è la cornice nella quale, come abbiamo visto, nasce e prospera, perché va detto prospera la comunità e poi la comunità europea, la comunità europea, l'Unione europea, verrà dopo la fine della guerra fredda. La comunità europea, come già abbiamo detto, è nata all'interno del blocco occidentale, è essa stessa parte della costruzione del mondo liberal democratico. Ora, che cos'è, qual è, diciamo, il luogo fisico che diventa simbolo della guerra fredda e in cui la guerra fredda finisce. Questo luogo simbolo è Berlino, è Berlino. Perché Berlino? Innanzitutto perché la Germania, come abbiamo visto, è divisa in due e la stessa città di Berlino è divisa in due. Ma Berlino diventa rapidamente il luogo simbolo, rapidamente, diciamo, nel 1961, diventa il luogo simbolo perché in questa città viene costruito un muro, il muro di Berlino. Il muro non è una metafora. La cortina di ferro, la definizione che Winston Churchill, l'ex primo ministro britannico a quel tempo, dette della divisione dell'Europa in due nel 1946, la cortina di ferro è una metafora. Il muro di Berlino era un muro fatto di mattoni e calcio istruzzi. Questo muro fu costruito nell'agosto del 1961 per volontà delle autorità della Repubblica Democratica Tedesca, cioè della Germania Est, e quindi del regime comunista della Germania Est e con il supporto dell'Unione Sovietica, per impedire, vietare, rendere impossibile ai cittadini della Germania orientale di traslocare nella Germania occidentale, di trasferirsi in occidente. Tra il 1949 e il 1961, prima che il muro fosse costruito, due milioni e mezzo circa di cittadini della Germania orientale usarono Berlino per trasferirsi in occidente. Ora, questo aveva un doppio costo insostenibile, inaccettabile per il mondo comunista. In primo luogo, coloro che scappavano ad occidente erano i lavoratori più istruiti, era la classe media e la classe dirigente della Germania orientale. Erano gli avvocati, erano i medici, erano i dirigenti d'azienda, gli ingegneri, politici. Quello che oggi, con espressione orribile dal mio punto di vista, ma ve la dico per farmi capire, si chiama il capitale umano d'eccellenza della Germania Est. E questo evidentemente aveva un costo, un costo sociale ed economico. C'era un'altra ragione che rendeva inaccettabile per la Germania Est e per l'Unione Sovietica e per l'intero mondo comunista questo flusso, questa fuga di cittadini da Oriente verso Occidente. Ed era una ragione propagandistica e anche politica. Quella fuga dava l'idea che i cittadini dell'Europa orientale pensavano che in Occidente si vivesse meglio, che il mondo occidentale non fosse certo il paradiso, come non era, il mondo occidentale e l'Europa occidentale non era certo il migliore dei mondi possibili, ma per due milioni e mezzo e per molti altri cittadini dell'Europa orientale che non riuscirono a scappare, l'Occidente era comunque un luogo migliore nel quale vivere. E questa era evidentemente una sconfitta sul piano politico propagandistico che le autorità comuniste della Germania orientale e dell'Unione Sovietica non potevano accettare. E per questo nel 1961 costruirono questo muro. Il muro è fondamentale perché il muro trasforma la guerra fredda in quello che uno storico americano molto importante ha definito un fatto della vita. La divisione dell'Europa era un fatto della vita immutabile. Ci sono le stagioni, c'è l'inverno, c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno, ci sono i fatti della vita che non si possono modificare. Ebbene, con il muro il messaggio che il mondo comunista dà all'Occidente è la divisione è immutabile, almeno nel medio periodo. Poi ovviamente tutto finisce prima o poi. Ma per, diciamo, il periodo di vita che immaginavano di poter vivere i contemporanei del tempo, il muro era, la divisione dell'Europa era lì ed era destinata a rimanerci. Ora io vi mostro un video tratto da EU News che vi spiega bene che cosa fosse il muro, credo ve lo spieghi bene, e vi fa vedere anche alcuni tentativi abbastanza, diciamo, drammatici di fuga, di superamento di questa barriera che impediva appunto la circolazione da est verso l'vest. All'inizio degli anni 60, 15 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, il mondo è in piena guerra fredda. Berlino è ancora divisa in quattro settori che formano due blocchi, ovest e est. Nella Repubblica federale si avviano crescita economica e modernizzazione. Il tenore di vita migliora mentre i sovietici assistono impotenti alla fuga di due milioni e mezzo di tedeschi verso ovest. Un'emorragia che bisogna fermare. Con questa giustificazione sarà eretto quello che a ovest chiameranno il muro della vergogna, mentre per gli altri sarà il baluardo antifascista. Il progetto, rimasto segreto fino all'ultimo, coglierà i berlinesi di sorprese il 13 agosto 1961. I membri delle forze armate della Repubblica Democratica tedesca, la polizia militare, le milizie dei lavoratori e migliaia di soldati sono schierati per bloccare le strade e le ferrovie che portano a Berlino Ovest. Le truppe sovietiche in assetto da combattimento si ammassano al confine. Durante la notte vengono erette delle barriere di filo spinato che separano con un taglio netto la città, le famiglie e gli amici. Migliaia di berlinesi perdono il lavoro. Molto rapidamente il filo spinato lascia spazio al muro. Gli edifici lungo la linea di demarcazione sono inglobati nella barriera. Porte e finestre vengono murate. 302 torri di guardia e dispositivi di allarmi e 14.000 guardie e 600 cani sorvegliano la frontiera tra i due mondi. 136 persone moriranno nel tentativo di scavalcare il muro, 97 delle quali uccise dalle truppe della Dead Air. Alcuni come Ida Sieckmann, la prima a perdere la vita il 22 agosto, si feriranno mortalmente da soli. Ida salterà dalla finestra del suo palazzo e morirà per le ferite riportate. Winfred Freudenberg sarà l'ultima vittima del muro pochi mesi prima della sua caduta e l'8 marzo del 1989. Il muro permette ai sovietici di raggiungere il loro obiettivo. In circa 30 anni solo 5.000 persone saranno capaci di fuggire, ma diventa di fatto l'immagine concreta della divisione tra la tirannia comunista e il mondo libero, una divisione che avrà fine il 9 novembre del 1989. Ecco, come ha anticipato il filmato, la clip, questo era destinato a finire questa divisione del muro di Berlino nel novembre del 1989. Ora, quali sono i protagonisti che portano alla fine la Guerra Fredda e che sarà sancita a conferma ulteriore della centralità del muro di Berlino e della centralità dell'Europa nella Guerra Fredda? Perché anche questo va detto. Un libro scritto da uno storico italiano uscito qualche anno fa, parlava della Guerra Fredda come dell'ultima guerra per l'Europa, volendo significare appunto come in questo confronto bipolare l'Europa fosse cruciale, fosse centrale, fosse la vera posta in gioco. I protagonisti della fase finale della Guerra Fredda sono questi due signori che vedete qui. Alla vostra sinistra il nuovo leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, che come saprete è recentemente scomparso, che diventa segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e quindi leader dell'Unione Sovietica nel 1985 e alla sua destra vedete l'altro grande protagonista della fine della Guerra Fredda insieme a George Bush, il presidente che ne prenderà il posto, ed è Ronald Reagan. Ronald Reagan era un presidente repubblicano, del Partito Repubblicano, viene eletto alla presidenza degli Stati Uniti all'inizio degli anni Ottanta e questi due uomini insieme, con un processo che evidentemente adesso non vi posso narrare nei dettagli, ma sono i protagonisti della conclusione della Guerra Fredda. Conclusione della Guerra Fredda che avviene tra il 1989 e il 1991. Sono due uomini evidentemente diversi da un punto di vista della loro storia, della loro cultura politica. Gorbachev ovviamente era un comunista, Reagan era un anticommunista, un liberale, un liberista. Rappresentavano e lo facevano con grande vigore e grande convinzione i loro rispettivi paesi e i loro rispettivi universi, ma trovano una intesa. Trovano un'intesa per cercare di superare l'ostilità tra Stati Uniti e Unione Sovietica. C'è un punto fondamentale che bisogna però sapere, e che qui di nuovo sintetizzo. Gorbachev era una posizione di debolezza rispetto a Reagan, perché alla fine, diciamo nella seconda metà degli anni Ottanta, ma forse anche un po' prima, l'Unione Sovietica e il suo sistema cominciano a perdere colpi. Sono sistemi ormai non più adatti, non più adeguati da un punto di vista soprattutto economico e finanziario, a reggere il confronto con il mondo occidentale. È un sistema che lentamente mette in mostra il suo marciume, la sua inadeguatezza, la sua incapacità di contrapporsi al mondo occidentale. E Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan, poi ripeto Bush dopo Reagan, portano alla conclusione in via pacifica, con poche eccezioni, questo confronto così acceso e così duro tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. E ancora una volta, ancora una volta, è centrale quello che accade a Berlino. Come avete visto nella clip precedente, il crollo del muro di Berlino, il Berlino annuncia la fine della guerra fritta. Ora, il video, la clip che vi mostro adesso, è una clip un po' particolare. È un discorso del presidente americano, appunto, Reagan, che li tenne nel 1987 a Berlino. Quando fu eretto il muro nel 1961, dopo che fu eretto, l'allora presidente degli Stati Uniti, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, si recò a Berlino e tenne uno storico discorso a sostegno dei berlinesi, tutti compresi quelli dell'est, che erano ormai separati dall'ovest, dicendo una famosa frase, la famosa frase che pronunciò Kennedy fu, io sono un berlinesi, volendo significare la vicinanza del mondo occidentale ai berlinesi tutti. 26 anni dopo, Ronald Reagan torna a Berlino in un momento in cui ha instaurato questo rapporto positivo con Gorbachev, quando si comincia a capire che l'Unione Sovietica sta avendo difficoltà, quando ci sono le prime trete visibili nel mondo dell'Europa orientale, cento orientale, e Reagan pronuncia un discorso storico. Ora, questo discorso è intriso di una certa retorica. Quindi, diciamo, fate un po' la tara alla retorica. Ve lo mostro perché è un discorso storico, perché vi fa capire la centralità di Berlino, quello che significava simbolicamente. Voi vedrete Ronald Reagan, già lo vedete in questa prima immagine, con alle spalle la porta di Brandeburgo. E il discorso è il discorso fatto davanti alla porta di Brandeburgo, che è il simbolo di Berlino. La porta di Brandeburgo durante la Guerra Fredda era parte di Berlino Est, era essa stessa parte del muro. E voi vedrete Ronald Reagan che si rivolge a Gorbachev chiedendoli di abbattere il muro. Mr. Gorbachev, sentirete, tear down his wall. E di fronte a lui c'è una folla di tedeschi occidentali che agitano le bandiere americane e tedesche e voi vedrete accanto a Reagan, alla vostra destra, alla sinistra di Reagan, il cancelliere, cioè il primo ministro o presidente del Consiglio della Repubblica Federale Tedesca del Tempo, Helmut Kohl. Vediamo adesso questo video e ne sentirete un po' anche il carattere enfatico ed epico che ne fa uno dei grandi discorsi della Guerra Fredda. Grazie a tutti. 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 quindi se cerchi la prosperità se cerchi la pace se vuoi la liberalizzazione devi abbattere il muro mister gorbachev questo è il messaggio che rega diciamo invia indirizza a gorbachev e questo vi fa capire quanto questo muro significasse in termini simbolici e politici nella europa e nel mondo della guerra fredda e quella dissoluzione del sistema comunista nell'europa centrale orientale e nell'unione sovietica prende il via con il crollo del muro a conferma di quanto questo fosse importante il muro è simbolico perché divide perché non è un segno di pace evidentemente il 9 novembre del 1989 il muro in una maniera anche così strana senza alcuna tensione senza alcun conflitto senza alcuna resistenza delle autorità della germania orientale viene abbattuto dai cittadini fino ad allora i le autorità le forze di polizia della germania orientale avevano sparato avevano ucciso cittadini dell'europa orientale voleva andare adesso ad ovest il 9 novembre del 1989 come vedete da queste immagini i cittadini dell'europa orientale vanno verso il muro e lo abbattono senza che nessuno ponga alcuna resistenza e questa è una delle conferme ne vedremo altri di come in realtà questo sistema il sistema comunista imploda crolli crolli su se stesso venga abbattuto facilmente dai cittadini e naturalmente e anche qui ovviamente vado un po in maniera sommaria il crollo del muro di berlino significa l'apertura di una nuova stagione dello scenario internazionale l'apertura di un mondo nuovo terra incognita che non si sapeva verso diciamo che cosa significasse non sapeva verso dove si sarebbe andati si passa dal vecchio al nuovo ordine mondiale ma questo nuovo ordine mondiale deve essere realizzato deve essere implementato e qui entra in campo la comunità quella che ancora si chiamava al tempo la comunità europea dopo il crollo del muro con tutto quello che ne conseguirà e lo vedremo l'unione europea la comunità europea chiedo scusa si trova di fronte a sfide immense per se stesse queste sfide sono la riunificazione tedesca il collasso dei regimi comunisti nell'europa centro orientale con la dissoluzione dell'unione sovietica e fatto forse un po meno noto forse anche se un fatto altamente drammatico evidentemente le guerre che si combattono in jugoslavia lungo tutti gli anni 90 fino al 2001 in realtà che pongono l'europa di fronte alla necessità di assumere un nuovo ruolo in europa la comunità europea deve avere un ruolo in europa che fino a quel momento era stato delegato per quanto riguardava la sicurezza la politica estera gli aspetti militari alla agli stati uniti in occidente e all'unione sovietica in oriente e la guerra in jugoslavia chiarisce alla comunità europea che essa deve riuscire ad assumere un ruolo anche nel mondo allora in questa parte in questa seconda parte della della lezione vediamo come la comunità poi unione europea reagisce a queste immense sfide si trattava ripeto di costruire un nuovo ordine mondiale avendo o cercando di avere e in larga misura come vedremo riuscendoci come stella polare come obiettivo appunto il suo status di potenza che promuove un processo di potenza di attori chiedo scusa che promuove un processo di pacificazione la nascita stessa della unione europea nel 1992 come vedremo è il tentativo di dare una soluzione pacifica a questi tre immensi problemi riunificazione tedesca collasso del comunismo in europa in unione sovietica e guerra in jugoslavia cominciamo dal primo problema inutile di tempo e forse dal problema più importante quello più controverso e complesso la riunificazione tedesca ora abbrate la riunificazione tedesca la possiamo la potevamo la potevano e la possiamo considerare come un fatto direi banale non banale ovvio una volta abbattuto il muro una volta finita la separazione era chiaro era evidente che i cittadini che appartenevano allo stesso stato alla stessa nazione dovevano riunificarsi il muro e la nascita di due germani contrapposti aveva significato la separazione di famiglie affetti amicizie interessi valori e così via quindi era evidente che dopo il 9 novembre dell 89 con l'abbattimento di quella barriera la germania si sarebbe riunificata e naturalmente subito dopo il trollo del muro tutti si dissero felici di questa opportunità ma in realtà nelle classi dirigenti dell'europa occidentale ma anche in unione sovietica la riunificazione tedesca rappresentava un grandissimo problema è una grandissima preoccupazione ritornano stereotipi anti tedeschi ritorna l'anti germanesimo ritorna la germanofobia la paura c'era la paura che questa grande germania quella che vedete nella mappa più grande nel cuore dell'europa potesse tornare a svolgere un ruolo egemonico se non da un punto di vista militare ma alcuni temevano anche questo da un punto di vista economico monetario e finanziario c'era quindi il timore di una rinascita di una tracotanza di un'arroganza di una egemonia tedesca che non era solo diciamo del cittadino comune ma come vedete era ben rappresentata anche dai vertici politici apicali di alcuni grandi stati europei qui ci sono le posizioni di due importanti leader politici del tempo margaret thatcher il primo ministro britannico e françois mitterrand il presidente francese del tempo queste sono due posizioni due frasi tratte da alcuni documenti conservati all'archivio di margaret thatcher margaret thatcher come vedete durante un incontro a mosca nel 1989 due mesi prima che crollasse il muro ma quando già era chiaro che qualcosa di grande stava accadendo nell'europa orientale ea mosca disse al leader sovietico che né il regno lito né l'europa occidentale vogliono la riunificazione tedesca perché ne hanno paura hanno paura di una grande germania pochi mesi dopo la il crollo del muro di berlino invece françois mitterrand disse alla stessa margaret thatcher che la riunificazione tedesca avrebbe portato la germania a guadagnare più influenza di quanta ne avesse mai avuta hitler quindi c'era una diciamo un secondo lui il rischio di una ripresa di una politica hitleriana comunque di dominio teutonico sull'europa la prospettiva della riunificazione disse mitterrand ha nuovamente trasformato i tedeschi nei cattivi tedeschi di un tempo e i cattivi tedeschi di un tempo erano ovviamente i tedeschi al tempo del terzo reich quindi come ora tanto thatcher quanto mitterrand in quanto rappresentanti apicali appunto dei rispettivi paesi avevano voce in capitolo sulla riunificazione tedesca perché in ragione dei trattati firmati alla fine della seconda guerra mondiale soltanto con il consenso di stati uniti gran bretagna francia unione sovietica la germania avrebbe potuto riunificarsi quindi il punto di vista di questi due signori era determinante per poter procedere alla riunificazione tedesca e perché nonostante questa paura nonostante questi timori nonostante questa ostilità che nella touch e rimarrà rimarrà ma poi la touch e fu sostituita alla guida della gran bretagna perché si arriva a questa grande germania perché si arriva alla riunificazione tedesca ci si arriva anche rapidamente perché il muro crolla nell'ottantanove la riunificazione tedesca sia nel nell'ottobre del 1990 e la sia pacificamente una riunificazione pacifica anche da un punto di vista politico perché e questo è un passaggio fondamentale c'è l'europa unita e il ruolo dell'europa unita nel se vuoi diciamo così controllare la germania ebbe a rappresentare controllarla domarla in qualche tempo stemperarne certi certe ambizioni forse ma anche tranquillizzare gli altri europei ebbe rappresentato da questa frase nota dello scrittore tedesco famosissimo thomas mann che nel 1953 ad Hamburgo di fronte a degli studenti disse loro di volere non un'europa tedesca c'è un'europa dominata dalla germania così come aveva voluto la follia di 3 re del suo regime ma una germania europea c'è una germania che diciamo così si fondesse con gli altri stati europei piuttosto che dominarli questa è la chiave questa è la chiave che era già stata utilizzata nella comunità europea ai suoi inizi e che viene riproposta per risolvere la nuova questione tedesca alla fine della seconda guerra mondiale la comunità europea come abbiamo detto e visto nasce all'inizio degli anni 50 per risolvere la questione tedesca come reinserire la germania nello scenario internazionale al tra la fine degli anni 80 inizio degli anni 90 l'unione europea che nasce a maastricht risolve lo stesso problema risolve di nuovo il problema tedesco che stavolta una forma diversa non è frutto della seconda guerra mondiale ma il frutto della fine di una guerra la fine della guerra fredda che però ripropone il problema tedesco perché la germania si riunifica e il trattato e l'idea europea e diciamo l'inserimento della germania in un contesto più ampio che quindi in grado in qualche modo di controllarla di domarla se vogliamo che consente di risolvere pacifici e i tedeschi ci stanno diciamo perché ci stanno perché i tedeschi sono consapevoli di quello che diceva loro thomas ma che aveva detto loro thomas ma è meglio è meglio se noi ci europeizia visto i disastri che abbiamo prodotto nella prima metà del novecento e a maastricht nasce l'unione europea quella nella quale viviamo noi oggi e questa unione europea tra le altre cose ovviamente non c'è solo questo mira a risolvere due problemi il primo è il tema di vincolare ancora di più la germania riunificata alla impresa europea perché l'unione europea vincola maggiormente cioè li lega ancora di più diciamo all'occidente all'europa occidentale e ancora la germania in questo contesto il secondo tema fondamentale è che maastricht porta alla moneta unica e questo è fondamentale ne parleremo ancora più diffusamente quando parleremo dell'euro scetticismo con maastricht serviva il processo che porta l'unificazione economica e monetaria e il processo che porta la nascita dell'euro significa la comunitarizzazione della politica monetaria tedesca significa cioè che la germania non può più da sola decidere la propria politica monetaria senza tener conto degli interessi degli altri paesi europei ma rinuncia alla propria sovranità monetaria e la scioglie all'interno di un contesto più ampio nel quale decidono tutti insieme nel quale si decide tutti insieme e come vedremo come vedremo la germania dovette superare molte osterità il governo tedesco intendo dovette superare molte ostilità da parte dell'opinione pubblica tedesca per rinunciare al marco maastricht in una parola lega ancora di più la nuova germania dentro dentro l'unione europea e in qualche modo ne controlla la potenza il potere ancorché esercitato ovviamente liberamente e senza le diciamo ambizioni militari egemoniche di dell'età dell'età italiana il secondo problema che si trova ad affrontare la comunità europea e poi ognuno non è meno importante è la dissoluzione dei regimi dell'europa centrale ed orientale questa striscia di stati in rosa accanto all'unione sovietica germania orientale polonia cikostovacchia ungaria rubania bulgaria alpania e così via vedono tutti i loro sistemi comunisti crollare avviano una lenta graduale e sotto certi punti di vista anche dolorosa da un punto di vista economico e sociale transizione verso la democrazia tutti questi stati ad eccezione della albania e della jugoslavia di cui poi parleremo brevemente dopo la prima a quelle prime cose che fanno in politica estera è chiedere l'adesione alla nato e di questo parleremo successivamente e chiedere l'adesione alla comunità europea come vedremo in tutti questi paesi la transizione verso la democrazia è pacifica in cikostovacchia si parla di rivoluzione di velluto c'è una sola eccezione a questa regola ed è una eccezione che vi vorrei mostrare con un video che forse di tutti quelli che vi ho mostrato è quello più duro da vedere io non ho una predilezione per i video sgradevoli ma diciamo il tema di cui parlo mi obbliga mi obbliga diciamo mi mi spinge mi mi convince a far vedere anche questo genere di video ora qui quello che vedete il video degli ultimi momenti di vita di due o meglio del dittatore rumeno nicolae ceausescu e di sua moglie erena nicolae sciausescu e sua moglie avevano governato a lungo la romania erano due dittatori compresa elena si parla infatti di satrapia duocratica per la romania avevano letteralmente ridotto il loro popolo alla fame era un regime totalitario brutale in cui diciamo le esigenze di interessi dei cittadini erano del tutto influenti e irrilevanti dopo il crodo del muro di berlino rapidamente sia una rivoluzione in romania ceausescu e sua moglie vengono processati in maniera molto così discutibile da un punto di vista del diritto diciamo e vengono condannati a morte e fucilati ora quello che vi fa che che vi vorrei mostrare sono proprio gli ultimi momenti prima della fucilazione sono immagini ripeto non belle da vedere non gradevole certamente ma ve le mostro perché perché vi mostro lo sfascio di un regime in qualche modo e vi mostro anche lo squallore vi mostro la tetraggine il modo anche un po trasandato in cui questo regime che aveva retto il paese a lungo muore voi vedrete una stanza disadorna appunto squalli da quella in cui si era tenuto il processo e vedrete due poveri vecchi uso questa espressione non in senso offensivo ma per farvi capire quello che vedrete perché cercano di reagire di opporsi a questi fantaccini a queste giovani guardie che li legano per portarle appunto davanti al totone di esecuzione sono immagini ripeto non piacevoli da vedere ma che vi mostro per far vedere vedere come un regime che pareva avere una presa assoluta sulla propria società implode crolla su se stesso in una maniera che non ha niente per così dire di di epico ma è molto molto squallido appunto chiede stiamo bella bella ma 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 mi non ma 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 rumbez manna, ma dati un bok! Uitati ce ceas are! Ma rucipe, ma ruere! Ma ruospine, ma copii! Ma presi una mamma! Ma andami! Ma ai! Ma ai! Ma aici! Ma ai! Ma sei! Ma ai! Ma ai! come avete visto in questa clip le luci si spengono nella parte finale e le luci si spensero su tutta tutti i regimi dell'europa cento orientale ma si spensano anche l'unione sovietica nel 1991 l'unione sovietica cessa di esistere e questo fu un avvenimento straordinario straordinario per i contemporanei straordinario per la storia venti crolla nello stesso modo anche se in maniera meno tragica e drammatica rispetto a quella che abbiamo visto implode su se stesso e una delle conseguenze importanti anche quella lezione finale sarà il fatto che questa implosione significa la rinascita di nuove statualità nascono o rinascono nuovi stati che fino ad allora erano state regioni dell'unione sovietica così come il piemonte o la lombardia o la toscano e lazio sono regioni dell'italia non hanno evidentemente una loro sovranità alla fine della dell'unione sovietica nel dicembre del 1991 sono nate l'estonia la lituania la lettonia che vedete alla sinistra di questa mappa rinasce anche l'ucraina come stato indipendente proprio nel dicembre del 1991 ed altri ed altri ed altri stati più grande quali il kazakhistan e come vedete nell'asia centrale l'aserbaijan turkmenistan e così via quindi la unione sovietica non esiste più esistono invece molti altri stati alcuni dei quali i tre baltici estonia lituania e lettonia rapidamente come vedete da questa slide insieme ai paesi dell'europa centrale fanno domande ad adesione alla unione europea che era nata a mastritt nel 1992 ora qui vedete la lista la polonia addirittura sin da 1989 e questi paesi diventano candidati e cominciano i negoziati per entrare nell'unione europea entrano vogliono entrare nell'unione europea perché come vedremo nell'unione europea vedono un ancoraggio per rafforzare i loro sistemi democratici e per sviluppare la loro economia ora l'aspetto fondamentale e questo vi prego di ricordarlo anche in vista appunto della lezione sull'euroscetticismo ma anche della lezione sull'ucraina e il fatto che per l'unione europea vecchia per la vecchia unione europea cioè per l'unione europea fatta dei paesi occidentali l'allargamento ha un costo ha un costo notevole ha un costo diciamo rispetto alla funzionalità dell'unione europea perché è evidente che far funzionare l'unione europea con 27 stati membri tanti saranno a partire dal 2007 è più difficile che farla funzionare con 15 più aumenta il numero di membri di un club più è difficile mettere d'accordo tutti coloro che ne fanno parte banalmente ma ha un costo anche in termini economici perché questi paesi per poter effettivamente acquisire requisiti necessari per l'unione per entrare in un europea hanno bisogno di aiuto aiuto economico e l'aiuto economico che l'unione europea da loro è come vedete abbastanza consistente tutto questo non è filantropia tutto questo non è beneficenza ma certo è un aiuto è un aiuto benvenuto nei paesi dell'europa centro orientale e perché l'unione europea lo fa lo fa perché l'unione europea ha un interesse anche strategico a aiutare questi paesi a consentire loro gradualmente di entrare nell'unione europea nonostante il costo perché questo ingresso significa ingresso nell'unione europea significa la stabilizzazione politica economica e sociale degli stati orientali confinanti con l'europa occidentale e quella stabilizzazione è essa stessa un elemento di pacificazione del continente come vediamo bene oggi in ucraina che non è parte dell'unione europea come abbiamo visto nel 2008 in georgia dove c'è stata una guerra ancora una volta scatenata la russia l'ingresso nell'unione europea significa stabilizzare e quindi pacificare il continente questa ragione che spinge l'unione europea ad accogliere con costi elevati sotto tanti punti di vista economici di funzionalità e così via costi sostenuti peraltro anche dalle società dei paesi che entrano perché la transizione da un sistema socialista un sistema democratico fu molto dolorosa da un punto di vista sociale economico e culturale e tutto questo ha infine l'esito dell'allargamento il grande allargamento della unione europea che si perfeziona tra il 2004 e il 2013 questa è una mappa al 2013 include ancora il regno unito che non c'è più che vi fa vedere che ormai siamo in presenza di una pan europa o quasi pan europa con poche eccezioni la unione europea raccoglie al suo interno gran parte dei paesi europei e ripeto questa è essa stessa un elemento di stabilizzazione e di pacificazione del continente terzo e ultimo aspetto rapido rapidamente le guerre la ex jugoslavia le guerre la ex jugoslavia si scatenano lungo tutti gli anni 90 fino al 2001 la regione di medio periodo e la morte di tito il grande leader jugoslavo morto nel 1980 che era riuscito a tenere insieme quello che è un coacervo era un coacervo come vedete di nazionalità religioni etnie e così via sparso un po in tutta la jugoslavia all'inizio degli anni 90 in ragione del crollo del muro di berlino e della fine della guerra fredda il sistema jugoslavo non tiene più si scatena una serie di guerre sanguinosissime in questa zona che pongono l'europa di fronte a tutte le sue responsabilità parlo dell'europa unita parlo della comunità e poi dell'unione europea cosa fare per aiutare i bosniaci cosa fare per aiutare i croati cosa fare per aiutare gli sloveni cosa fare per aiutare le popolazioni che subiscono una vera e propria pulizia etnica dalla fine della seconda guerra mondiale cioè dalla fine della pulizia etnica anche se ancora non esisteva questa espressione messa in moto da adolf hitler la guerra in jugoslava per la prima volta alla fine della seconda guerra mondiale ripropone in europa la pulizia etnica qualcosa che evidentemente orribile inaccettabile e l'unione europea ha un grande problema di fronte a tutto questo cosa può fare cosa può fare nel nuovo ordine mondiale non più caratterizzato dalla presenza di stati uniti e d'unione sovietica ebbene l'unione europea è del tutto incapace di dare una mano di aiutare a risolvere questo problema il problema delle guerre in jugoslava dove muoiono centinaia di milioni di persone è una guerra che mette in mostra come la comunità europea non abbia gli strumenti per intervenire con la propria azione esterna in un'operazione di peacekeeping non si tratta evidentemente di invadere la jugoslavia conquistarda non si tratta di aggredire i serbi o i croati si tratta di esercitare una politica estera anche attraverso forse di dissuasioni militari che consentano di arrivare a una soluzione pacifica di questa sanguinosissima insopportabile guerra civile ebbene di fronte a questa sfida l'unione la comunità europea non ha gli strumenti non li ha e allora di nuovo ma street nel 1992 quando la guerra è però già iniziata decide di dare alla comunità alla unione europea chiedo scusa una politica estera e di sicurezza comune questa politica estera di sicurezza comune mi sto avviando la conclusione è del tutto congrua con questa idea dell'europa come progetto di pace perché la pesca non ha la necessità diciamo l'obiettivo di trasformare la comunità unione europea in una potenza militare ma il compito di preservare la pace la sicurezza internazionale promuove la cooperazione internazionale e così via le cose che leggete in questa slide cose che sono del tutto congrue con quella che era a quel tempo poi come vediamo con la guerra in ucraina le cose sono cambiate un po l'idea che l'europa non dovesse essere una potenza militare una potenza espansionistica non dovesse agire come tradizionalmente agiscono le grandi potenze ma dovesse essere una potenza civile c'è una potenza che interpreta la propria azione esterna di fuori dei propri confini al fine di difendere i propri valori e le proprie norme valori liberali e democratici che promuove il multilateralismo ovvero si cercano soluzioni attraverso rapporti multilaterali attraverso scelte comuni e coordinate non attraverso scelte unilaterali presi appunto dalla potenza dominante promuove la cooperazione tra stati e uno degli strumenti per dare seguito a questa idea di europa potenza civile la condizionalità ovvero una serie di condizioni che l'europa pone per fare entrare nuovi stati membri al suo interno oppure per intrattenere rapporti economici e commerciali ovvero ti faccio entrare oppure realizzo accordi economici e commerciali con te ma in cambio tu promuovi stato o gruppo di stati promuovi promuovete politiche volte al rafforzamento della sistema democratico rispetto dei diritti umani dei diritti delle minoranze stato diritto e così via questi sono i tre modi in cui in sintesi evidentemente in cui l'unione europea reagisce alle enormi sfide poste dalla fine della guerra fredda e sono tre modi tre modalità e mi avvia appunto la conclusione con le ultime due slide che mettono in luce come ancora tra la fine degli anni 80 e lungo tutti gli anni 90 l'unione europea pensasse a se stessa come non un attore pacifista e questo lo vedremo bene ma come un attore volto a promuovere la pace ora tutto questo è ben rappresentato e il senso di tutto quello che vi ho raccontato fino ad oggi da un discorso fatto dal presidente della repubblica francese françois miterran nel 1995 al parlamento europeo il discorso che fa miterran è un discorso molto molto secondo me anche toccante e come vedrete ripeto al parlamento europeo miterran era stato in yugoslavia nel 1992 e aveva visto gli orrori che si stavano commettendo in quel paese e miterran in questo questo discorso del 1995 nel 1995 sembrava che la guerra in yugoslavia fosse arrivata ad una soluzione con gli accordi di dayton negli stati uniti nel 1995 françois miterran si rivolge a membri del parlamento europeo e se voi fate caso alle sue parole ricordate le parole del pesce anziano il pesciolino anziano che vi ho mostrato proprio all'inizio di queste due lezioni ebbene voi in qualche modo potete riconoscere nell'esperienza che miterran racconta ai membri del parlamento europeo la sua esperienza personale un uomo ormai molto molto anziano sarebbe morto di via poco voi riconoscerete e lo stesso messaggio che lancia wallace lo scrittore i pesciolini ovviamente rappresentano il punto di vista dello scrittore ovvero il messaggio che lancia miterran è facciamo molta attenzione al nostro passato ricordiamo il nostro passato ricordiamo da dove veniamo e facciamo molta molta attenzione a tenere la nostra acqua pulita e a non inquinarla con il nazionalismo aggressivo e quindi a non riproporre i presupposti che hanno portato l'europa alla al suo sprofondamento durante la seconda guerra mondiale miterran in qualche modo appunto riprende quel messaggio e mi sembra un intervento breve ma molto molto anche toccante ripeto sta parlando un uomo che sa di essere la fine dei suoi giorni e lancia un messaggio un avvertimento che hanno valore anche oggi anche per lui che hanno valore anche per la prima guerra mondiale e che io faccio la seconda oppure ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto di famiglie dichiarate, che tutte pleuravano dei morti e che entretano una rancuna e magari una haine contro l'ennemi di la veia. Grazie mille. 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 c'è maggiore pace, c'è una situazione di minori conflitti interni e internazionali, c'è un elevato grado di sicurezza, c'è un basso grado di militarizzazione e con poche eccezioni, come vedete, questa mappa europea coincide perfettamente o quasi perfettamente appunto con la mappa dell'Unione Europea. L'invocazione, l'appello per meglio dire di Mitterrand e di tutti coloro che dal 1950 in poi hanno quindi voluto costruire l'Unione Europea è stata rispettata e è stato dato seguito a quella invocazione. Sta a noi ovviamente e soprattutto alle generazioni più giovani che ci ascoltano mantenere e meglio ancora sviluppare ulteriormente tutto questo. Io con questo concludo, sono a disposizione per le vostre domande e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie mille, professor Pasquilucci, anche oggi lezione molto interessante. Se avete delle domande potete inserire nella chat. Ok, abbiamo una domanda dalla Quinta B. Perché la Russia non è stata espulsa da Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo i fatti sull'Ucraina? Bene, rispondo subito allora. Questa è una domanda molto molto interessante e ringrazio la classe che l'ha formulata. Perché non è stata espulsa? Noi sappiamo che c'è stata una richiesta di espulsione dalle Nazioni Unite da parte dell'Ucraina e non solo dell'Ucraina. Non è espulsa perché secondo molti, ed è diciamo l'interpretazione prevalente ed è l'interpretazione secondo me corretta, è tecnicamente impossibile espellere la Russia, la Federazione Russa, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Perché è tecnicamente impossibile? Perché il Consiglio di sicurezza, che poi è l'organo più importante decisionale delle Nazioni Unite, c'è anche l'Assemblea, ma insomma il Consiglio di sicurezza è il fulcro, è formato da 15 stati membri. Dieci ruotano, non sono fissi. Cinque soli sono permanenti, non cambiano mai. Questi cinque stati permanenti sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Cina e la Federazione Russa, che è considerata l'erede dell'Unione Sovietica. Sono i cinque stati che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Questi cinque stati, e solo questi cinque stati, hanno il diritto di veto, cioè possono bloccare con il loro voto contrario qualunque decisione, anche quando anche questa decisione fosse sostenuta dagli altri 14 membri. Ora, esistono due articoli nello Statuto dell'ONU che prevedono la sospensione o l'espulsione di un membro che non rispetti i valori, i principi delle Nazioni Unite, ma l'attivazione di questo meccanismo prevede un voto del Consiglio di sicurezza. E quindi è del tutto ovvio, prevedibile, che qualora questo tema arrivasse nel Consiglio di sicurezza, la Federazione Russa opporrebbe il veto, rendendo impossibile l'attivazione del processo, della procedura, che poi potrebbe portare alla sua espulsione o alla sua sospensione. Ci sono alcuni studiosi che pensano che questo meccanismo possa essere aggirato attraverso meccanismi un po' così complessi. Non mi soffermo su questo, perché penso che questa obiezione sia l'obiezione più importante, quella che appunto, al di là della volontà, anche auspicabilità di questa misura, rende impossibile. Aggiungo solo rapidamente che da altre organizzazioni internazionali la Russia è stata espulsa, ad esempio dal Consiglio d'Europa, oppure è stata sospesa da alcune agenzie, da alcune strutture, per così dire, delle Nazioni Unite, ma non è stata espulsa, né probabilmente potrà esserlo, dalle Nazioni Unite. Questa è la risposta alla domanda. Abbiamo un'altra domanda, bella, difficile, no meglio, è una domanda alla quale probabilmente abbiamo un poco tempo per rispondere. Quali sono state le cause della guerra in Jugoslavia? Le cause della guerra in Jugoslavia, le cause scatenanti sono molte. Ne riassumo, diciamo, due molto rapidamente, anche qui ovviamente devo essere sintetico. L'innesco della guerra è la volontà di Slovenia e Croazia di separarsi, per motivi economici, dal resto della Federazione Jugoslava, perché erano nazioni, stati più ricchi, regioni più ricche, regioni al tempo erano ancora regioni più ricche, e percepivano la Jugoslavia come una entità che in qualche modo le opprimeva, perché dominata dalla Serbia. C'è infatti il tentativo poi riuscito di Slovenia e Croazia di dichiarare la propria indipendenza che di fatto innesca la guerra in Jugoslavia. Il secondo motivo è più generale, ripeto, sto sintetizzando molto e mi scuserete, ma insomma credo di essere abbastanza chiaro, almeno lo spero, ed è il fatto che la Jugoslavia da sempre è una nazione, uno stato, era uno stato, come abbiamo visto, molto molto eterogeneo dal punto di vista delle nazionalità, dei gruppi religiosi, delle culture e così via. Fintanto che rimase in vita un uomo carismatico, di grandissima, enorme carisma, come Tito, che fu l'eroe della resistenza jugoslava, e la cerchia degli uomini che in lui si riconoscevano e che ne accettavano la leadership, la Jugoslavia è riuscita a tenere insieme il suo stato. Ma ha aggiunto che la guerra fredda giocò un ruolo fondamentale perché nessuno avrebbe permesso ai tempi della guerra fredda la dissoluzione della Jugoslavia, perché questo avrebbe significato l'inizio di un potenziale conflitto tra mondo occidentale e mondo orientale. Quindi anche la guerra fredda contribuisce a congelare la situazione jugoslavia. Quando Tito muore nel 1980, siamo ancora ai tempi della guerra fredda, la Jugoslavia rimane, anche se subito si capisce che ci sono elementi di disgregazione in quel paese, quando poi crolla il muro di Berlino, i problemi economici e questa eterogeneità della Jugoslavia diventa insostenibile, dissimischiano poi evidentemente anche fanatismi, rivalità represse per tanto tempo e così via, e tutto questo porta a questa lunga, sanguinosissima e orribile guerra in Europa, in Jugoslavia. Perfetto, non vedo altre domande, controllo anche l'altro box domande e risposte. No, quindi se non ci sono altre domande da parte degli studenti, ma anche perché no dei professori, io volevo nuovamente ringraziare... Ah, ecco, abbiamo un'altra domanda. Può consigliarci una bibliografia per approfondimento? Allora, lo faccio molto volentieri, però per farlo non posso farlo, diciamo, a voce. Non so qual è la scuola, però, diciamo, se ci riesco... Sì, si sa qual è la scuola. Allora, si può dare, potete dare alla scuola la mia mail, mi scrivono e io in tempi rapidi posso spedire una bibliografia per approfondire i temi. Forse la soluzione... Allora, facciamo così. Chi desidera ricevere la bibliografia può mandare una mail... Provo a scriverla io adesso qui. Non so se mi riuscirà. Nella chat, sì, certo, nella chat. Un attimo, vediamo se riuscite. Non riesco a farla partire. No, vabbè, gliela potrei mandare voi, per favore. Vediamo... No, possiamo, se me lo può mandare, un attimo su WhatsApp, io posso metterla nella chat. Perfetto. Vabbè, la mia mail è daniele. Tra bando io? Ah, ho capito, voi le... Eccola, eccola, è arrivata. Sì, sì, sì. Daniele Pasquinucci Onisiti. Sono riuscito. O qualcuno l'ha fatto. Forse l'ha fatto Raffaella. Sì, l'ha fatto Raffaella. Ah, l'ha fatto Raffaella. Ok, perfetto. Questa è la mia mail, quindi scrivetemi tranquillamente e magari mettete... Ricordatemi che volete appunto la biografia della lezione e io vi rispondo in tempi ragionevolmente veloci. Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, ringrazio a tutti i partecipanti, tutte le classi che sono collegate a noi con relativi professori. ringrazio chiaramente il professor Pasquinucci per questa interessantissima lezione e ringrazio anche tutti i partner di questa iniziativa e anche lo staff che ha lavorato all'organizzazione del webinar. Quindi vi ricordo il prossimo appuntamento che è l'undici e poi avremo gli eventi online. Quindi buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie. Arrivederci alla quinta del liceo artistico di Asti. Peace dog.